A Daniele e a tutti coloro i quali hanno capito una cosa, che la speranza ha una radice salda, non è il tutto andrà bene astratto. È vero Doluigi Maria Epicoco? È verissimo, confermo la tua versione. Confermi, perché questo è un tempo in cui noi abbiamo un bisogno fisico di curare l'anima attraverso la speranza, però ripetiamo, non la speranza in cui diciamo ne usciremo, sarei tutti più bravi. La speranza che forse per un cristiano ha delle radici diverse, quali Doluigi Epicoco? Innanzitutto a volte noi ci ripetiamo la speranza come un mantra, ma semplicemente perché non sappiamo come affrontare la realtà, non sappiamo come gestire la realtà. Per noi invece la speranza vera è radicata in Cristo, nel suo essere suoi, e sapere che tutta la nostra vita è incastonata in questo amore, in questo rapporto, in questa relazione. In questo senso per noi c'è speranza, perché sappiamo che in fondo l'ultima parola non è mai quella della storia, non è mai nemmeno quella dei nostri peccati, l'ultima parola è sempre quella di Cristo. Doluigi, tu hai tenuto un dialogo affascinante con Saverio Gaeta, il nostro collega e amico, che tra poco sentiremo. Un dialogo raccolto in un libro della San Paolo, La speranza non è morta, parole di fede al tempo di crisi. Quasi come a dire, da una parte l'impegno dei sanitari, da una parte l'impegno di chi litiga, perché purtroppo questo è quello che leggiamo sui giornali e ascoltiamo in tv, sulla questione di come curare, gestire e trattenersi davanti al virus, se dall'altra invece uomini di fede che cominciano a pensare anche all'anima oltre che al corpo. Le cose non sono una contro l'altra o una costata l'altra, ma sono una dentro l'altra, perché in fin dei conti quando parliamo dell'anima stiamo parlando di quella domanda di senso che abita questo tipo di esperienze, e che non avrebbe senso farci questa domanda di senso se non ci fosse stato l'eroismo di tanti medici, di tanti infermieri, di tante persone che hanno dato letteralmente la vita in questa pandemia. Che cosa c'è dietro questo eroismo? È una delle domande che ti pone Saverio Gaeta. Tu lo spieghi molto, molto bene. Cosa è che porta uomini e donne, che noi spesso trattiamo anche male, pensate solo a quello che gli attacchi ai pronto soccorso, eccetera, a dire, a stare lontani dalle famiglie, a mettere in gioco la propria vita per gli altri? Beh, io credo, anzi dico a Saverio nel libro esattamente questa cosa, che sono estremamente convinto che in questa donazione di sede del personale sanitario, in generale di questi ultimi mesi, ci sia un fortissimo segno di speranza. In una società come la nostra, potentemente individualista, individualista, ripiegata su se stessa, queste centinaia, migliaia di persone ci hanno dimostrato invece che non è vero che l'uomo è ripiegato su se stesso, ma che c'è la possibilità invece di aprirsi, di donare la propria vita con una gratuità estrema, a volte senza nemmeno un grazie, a volte senza nemmeno essere riconosciuti, a volte perdendo la vita. Quante volte abbiamo ascoltato di medici o infermieri che magari sono stati contaminati dallo stesso virus, hanno perso la vita, ma non si sono tirati indietro in quel momento. Hanno continuato a lavorare, hanno continuato a fare la loro parte. Beh, in un mondo come il nostro, che è così tanto problematico, vedere uomini e donne che vivono così è un fortissimo segno di speranza. Uomini e donne di scienza che hanno capito anche la necessità di quel gesto, di quella carezza che è stata negata a moltissimi. Pensiamo a tutti i morti nelle terapie intensive che non hanno avuto visite dai loro familiari per settimane e settimane. Luigi, Dio è entrato nelle sale e nelle stanze delle terapie intensive, è vero? Dio c'è stato tra quei malati? Assolutamente sì, per due motivi fondamentalmente. Il primo perché Dio è sempre presente in chi soffre. E quindi c'è entrato perché c'è entrato qualcuno che soffriva. Ed è innanzitutto nella debolezza inerme di chi in quelle terapie intensive ha vissuto momenti drammatici, di chi anche è morto da solo. Solo, come dicevi giustamente tu, lontano dalle famiglie. La cosa che colpisce è che Dio è entrato anche in quella tenerezza, in quella delicatezza di cui facevi cenno tu. Perché in fin dei conti questi medici, questi infermieri, questi uomini di scienza si sono resi conto che è troppo poco curare una malattia, che si ha sempre a che fare con delle persone e che in quel momento la maturità della cura non è semplicemente dare le medicine giuste, ma il massimo della cura è mostrare la propria umanità e accompagnare l'umanità che avevano davanti ai loro occhi, riconoscere delle persone, non semplicemente dei problemi da risolvere. Se la fede non conferisce l'immunità contro la sofferenza, contro il dolore, perché la speranza per i cristiani diventa una certezza? Perché noi abbiamo sempre un'idea molto pagana della religione, anche di tutto quello che circola attorno all'idea della fede. Pensiamo in fin dei conti che valga la pena credere perché questo ci mette al sicuro, perché questo ci protegge dalla vita. Ma il ruolo della fede, il ruolo della religione, non è un ruolo protettivo in senso pagano, diciamo così. Io uso spesso questa parola, una sorta di assicurazione sulla vita, ma è qualcosa di molto più profondo. È sì una protezione, ma è quella protezione che ci abilita ad affrontare anche quelle situazioni difficili, non a evitare queste situazioni. E questo è importante perché in fin dei conti, quando si vivono delle cose difficili, la reazione principale è quella di chiudersi, è quella di allontanarsi, è quella di proteggersi. Ma in realtà non è sempre così, perché quando si vive una profonda esperienza di appartenenza, una profonda esperienza di fede, e qui permettimi di fare una grande differenza, a volte questa esperienza di fede, di amore di Dio, è esplicita, cioè la persona se ne accorge. Altre volte è implicita, cioè sente che c'è qualcosa di significativo, anche se non arriva fino al punto di pronunciare le parole Gesù Cristo, che Gesù è il Signore. Ma tu ti accorgi che questa persona ha realmente incontrato Cristo, perché, dice un salmo, riferendosi a Dio in un momento di tribolazione, dice, hai trasformato il nostro lamento in danza. Questa è la resilienza, questa è la capacità di saper trasformare delle storie difficilissime che in maniera molto naturale dovrebbero semplicemente chiuderci invece in un capolavoro, in qualcosa di molto più grande, in una danza. Don Luigi, danza è questo passo di Papa Francesco, per cui io ringrazio la regia che mi ha dato l'opportunità di vedere queste immagini, mette le grazie a tutto schermo, come al solito capiscono sempre, prima di qualsiasi parola. Una danza con i passi solitari dentro una piazza San Pietro il 27 marzo è un giorno che rimarrà inchiodato alla storia anche dei non credenti. Basti solo pensare l'eco che ha avuto in tutto il mondo. Cosa è stato quell'incontro di un uomo solo ai piedi di un Cristo crocifisso? Ecco, questo sguardo su di lui? Io credo che in quella giornata Papa Francesco abbia mostrato davvero ciò che lo definisce. Lui è un pontefice. La parola pontefice significa che è un ponte. E si è mostrato davvero come un ponte, perché ha fatto questo, ha rivolto a Dio le domande che tutti noi ci portavamo nel cuore. E allo stesso tempo ha rivolto a tutta l'umanità quella che è la risposta di Dio alle domande degli uomini, e le ha presi dal Vangelo. Io credo che la gratitudine che dobbiamo a quest'uomo sia non perché in quella piazza era da solo, ma perché ha mostrato di essere solo un uomo, ma solo un uomo che è il successore di Pietro e che nella sua debolezza, nella sua fragilità, nei suoi anni anche, ha mostrato con una grande serenità che si può affrontare tutto questo senza evitare i grandi interrogativi del dolore innocente. Non ti importa che moriamo, ha detto il Papa, rubando le parola ai discepoli, ma allo stesso tempo ha lasciato che Gesù potesse parlare a questa domanda. Sono tante le domande che Saverio Gaeta ti ha posto in questo libro. Tra poco vi riavremo. Don Luigi, non ti muovere. Ce ne andiamo un attimo solo in pubblicità e poi torniamo qui. C'è anche lo zampino del diavolo da dover esaminare. L'unica cosa che credenti e non hanno disperatamente cercato in questo tempo è stata la consolazione. Parole di senso, ma non quelle recitate solo con la bocca, che dessero anche una giustificazione, un perché a tanto dolore. Beh, queste parole le ha cercate caparbiamente un nostro collega, un nostro scrittore, tra l'altro amico carissimo di Bel Tempo si spera, Saverio Gaeta, che alza la cornetta, o meglio, la cornetta non esiste quasi più, e chiama Don Luigi Epicoco. Buongiorno, Saverio Gaeta. Questo è un libro, La speranza non è morta, che è nato in meno di un mese. Tu eri aprile e chiami Don Luigi per fargli gli auguri e che cosa succede? L'11 aprile era sabato, appunto, mattina. L'ho chiamato per fare una chiacchierata e due auguri e poi gli ho buttato lì un problema che sentivo molto forte dentro di me e sentivo anche in tanti altri amici che mi avevano chiamato, ho scritto in quei giorni, che cosa sta succedendo, come dobbiamo giudicare quello che sta capitando, come possiamo affrontare il prossimo futuro in una maniera significativa nella luce della fede. E allora, parlando con Don Luigi, ho provato a buttargli lì una cosa che pensavo mi scaricasse la coscienza, dicendogli, caro Don Luigi, a me sembrerebbe il caso di fare qualcosa, però penso che tu abbia problemi di tempo, quindi mi rendo conto se tu non accetti. E lui invece mi ha detto, no, è un momento tranquillo, ovviamente il collegio è chiuso, qui da me si lavora, ma non ho proprio problemi particolarissimi nei prossimi giorni, e quindi ha accettato. E lì abbiamo cominciato. E devo dire, Savero, che le domande che arrivano sono anche domande piuttosto scomode, le domande che veramente farebbe l'uomo di strada, nel senso che senza interrogare il cielo e scomodare le grandi domande, si arriva a delle risposte di cui veramente avevamo bisogno. Una di queste domande, Don Luigi, è stata quella di dire chiaramente perché gli stessi credenti dicono da una parte il Signore si è stancato di noi e ci ha mandato la punizione, e dall'altra dire o domandarsi se Dio si fosse distratto in questo tempo, se avesse altro per la testa, tanto da non riuscire in un certo senso ad aiutarci, ad anticipare anche le mosse di questo maledetto virus. Che risposta è arrivata da te? Le due risposte di cui tu hai parlato sono quelle più semplici e quelle che attraversano tutta la storia. Costantemente l'uomo cerca di risolvere il problema del male, magari leggendolo soltanto sotto la grande categoria della punizione divina, del castigo. Ora, senza entrare in maniera specifica all'interno di questo, a me sembra una grande semplificazione pensare che Dio si limiti a permettere il male semplicemente per punirci, come se fosse una forma di educazione. O peggio ancora, che è indifferente a noi, e quindi non gli importa della nostra sofferenza, e la vita, la storia, va avanti senza che lui intervenga o senza che gli importi davvero della storia di ciascuno di noi. Gesù Cristo ci ha mostrato invece come le cose sono profondamente diverse, anche più complesse, ma anche più avvincenti, perché ci ha detto che noi siamo sempre nel cuore del Signore, anche nei momenti in cui ci sembra che tutto è contro di noi. E che è vero che il Signore ci ha lasciati talmente tanto liberi da permettere anche le estreme conseguenze della nostra libertà. E questa non è una brutta notizia, ma è una buonissima notizia. Se la nostra libertà non fosse vera, non ci sarebbe nemmeno né l'amore né la fede. Allora, se è vero che c'è un male, che è la conseguenza della nostra libertà usata male, allo stesso tempo però c'è una misericordia che sa venirci a ripescare anche dalle nostre cadute, anche dalla nostra libertà usata male. Il problema qui è invece il dolore innocente, cioè accorgerci che ci troviamo davanti a quel grande mistero, a quel grande muro che non sappiamo scalare, che è perché Dio permette il dolore innocente. Allora, qui più che una risposta c'è un'esperienza, cioè lasciarsi portare dal Signore in mezzo a quel buio, attraversare quel buio e accorgersi che per quanto i nostri ragionamenti non riescono a elaborare una risposta così chiara, domesticabile in una frase, in una parola, alla fine di quell'esperienza, di quel passaggio, di quel buio, noi non siamo le stesse persone di prima. È accaduto un cambiamento dentro di noi. Questa è la conversione, cioè uno stravolgimento del nostro sguardo, del nostro modo di pensare e di vivere. Sai, Don Luigi, sono parole importanti che ci fanno capire che è una conversione che non arriva dall'alto, ma che al contrario parte da un desiderio del cuore. Permetteteci di aprire una parentesi, di farvi conoscere Carlo Olmo. Carlo Olmo è uno degli ultimi cavalieri al merito nominati dal presidente Mattarella. È un uomo che dalla vita aveva tutto, anche se aveva un passato complicatissimo. Viene adottato a sette anni, per lui si aprono finalmente gli studi, si aprono tante opportunità, avvocato di successo. Poi quando la vittoria in una sentenza mette a rischio la sua coscienza, cambia vita. E Carlo Olmo è quell'uomo che ha regalato del bene agli ospedali della sua zona. Ascoltatene un attimo le parole. Qui non si tratta di sapere se sia stato battezzato o meno e se abbia o meno Dio nel cuore, ma sicuramente ha lo sguardo aperto verso il cielo. Guardate. E se venisse da me un bambino da lontano e mi chiedesse coi suoi occhi spalancati e impauriti che cosa è successo in questi tre mesi di pandemia? Io gli direi che una sera di marzo mentre pregavo il Padre nostro è apparso un maestoso e bellissimo lupo bianco che si è insinuato nel mio cuore ha acceso una fiammata ardente e con la sua zampa felpata mi ha accompagnato e guidato su sentiri sconosciuti per andare a cercare e trovare le protezioni per coloro che si sentivano indifesi per trovare una parola di conforto e sollievo per coloro che avevano paura ed erano fragili per portare da mangiare a coloro che avevano fame e accendere una luce per coloro che si sentivano nel buio questo lupo bianco che nella sua corsa che ancora continua ha acceso il cuore di altri lupi bianchi che seguono una via di coraggio e di forza è una delle innumerevoli forme della mia anima il terreno di battaglia dove si scontrano le forze più oscure e più luminose del male e del bene e noi esseri umani di fronte alle grandi prove della vita siamo sempre chiamati a una scelta e questa scelta è fra il terreno accidioso il terreno pericoloso della paura e della solitudine o quello illuminoso della forza dell'amore se il male fa notizia il bene fa la storia scriviamo insieme questa storia d'amore e di speranza per tutta l'umanità grazie a Laura Badaracchi di averci portato in studio Carlo Olmo Saverio Gaeta ho bisogno di te alla fine di questa lunga chiacchierata laico come te giornalista scrittore che cosa ha capito di questo mondo e della speranza? ma ha capito innanzitutto che è qualcosa che interpella ciascuno di noi noi spesso quando scriviamo dei libri pensiamo di scriverli per gli altri questo è un libro che io ho scritto intanto per me stesso ho chiesto a Don Luigi di dare a me delle risposte ho provato a darle agli altri proprio in base a quelle che era la mia sensibilità in base a quello che io stesso ho cominciato a capire dal dialogo con Don Luigi e poi mi ha permesso di capire di approfondire molto meglio sotto l'aspetto teologico quello che ho studiato tante volte nell'ambito delle apparizioni mariane che si lega a quello che si diceva prima sul dolore innocente cioè le apparizioni mariane non sono una minaccia una cosa terroristica come spesso si sente dire quando fanno degli annunci profetici e dicono che potrebbero esserci dei problemi sono semplicemente il preannuncio di qualcuno che in questo caso è la Vergine che viene però ovviamente mandata a noi da Dio che guarda più lontano di noi è in cielo è assunta in cielo e quindi vede molto più lontano e non viene a minacciarci ma viene a dirci guardate che se continuate così questo è il rischio in cui voi vi andate a infilare quindi è una responsabilità per ciascuno di noi quello di guardare al nostro orizzonte immediato e anche a quello un po' più lontano con una responsabilità di fondo che per noi ha ancora di più il compito di mostrare la gioia la bellezza la speranza e la certezza che la fede ci dà Don Luigi lo zampino del diavolo l'abbiamo tenuto alla fine perché è prestare il destro al diavolo quando mettiamo in dubbio da credenti che la speranza sia soltanto un'utopia Papa Francesco dice che il diavolo è tale perché rovina perché divide perché distrugge la cosa che vuole distruggere innanzitutto il male è che noi siamo amati e che siamo figli tutte le tentazioni quelle che vengono raccontate nel Vangelo sono sempre introdotte da questa da questa insinuazione se è vero che sei figlio dice ecco quando capitano queste cose brutte nella vita quando ci scontriamo in maniera traumatica con l'esistenza quello che il male vuole mettere in discussione è proprio se siamo figli se è vero che siamo figli allora perché tutto il resto è qui che si gioca la nostra fede e la nostra libertà fidarci di questo amore di Dio anche quando il male ha argomenti molto convincenti che fanno molto rumore che ci impressionano molto fidarci di quell'amore Saverio Lapidario in un minuto perché la speranza non è morta ti fido eh il fatto che Gesù è sceso sulla terra duemila anni fa che Maria continua da duemila anni a venire sulla terra a prenderci per mano che tutto quello che noi diciamo con le parole è carne il cristianesimo è l'unica religione che ha inviato un Dio sulla terra che si è fatto uomo e che oggi continua a mostrarci la sua presenza nell'eucaristia in tutta la vita della comunità cristiana quindi in questo senso io sono certo che chi leggerà questo libro ma anche chi ha ascoltato soltanto questa puntata comprenderà che il compito che abbiamo è quello semplicemente di rendere anche noi carne tutto ciò che diciamo con le parole e questo non a essere fulminati questa è semplicemente la verità grazie di cuore a Don Luigi Epicoco e a Severio Gaeta è bello anche vedervi così a distanza ci stiamo facendo piacere tutto